E siamo sempre qui in questa bellissima spiaggia con la nostra amica Deborah, ciao Deborah Ciao Tiziana dell'associazione Insieme a Te, ripeto sempre una spiaggia vuota che però il 13 giugno si animerà di suoni colori giovani, meno giovani, ma soprattutto di tanto amore, solidarietà Abbiamo parlato di un po' di tutto, di questa associazione ci manca la cosa più bella, cioè quando portate appunto queste persone che hanno delle disabilità fino in acqua, toccare l'acqua Esatto, dopo come avevo detto altre volte noi abbiamo diversi tipi di ausili e questi ausili permettono a tutti di andare comunque in acqua in base al tipo di disabilità che ha Ovviamente la cosa meravigliosa è che abbiamo comunque 80 metri di passerella e quindi i nostri ospiti quando iniziano a percorrere, che magari sono 10 anni, 20 anni che non hanno fatto più il bagno O alcuni non hanno neanche proprio mai fatto Iniziano a percorrere questa passerella e man mano che si avvicina al mare io vorrei farvi vedere l'espressione di queste persone Perché è veramente meraviglioso, ecco lì capisci che veramente quello che stai facendo è grande È tanto, vedere i ragazzi che si emozionano quanto gli stessi familiari e ospiti perché è un traguardo non solo per i nostri ospiti, è un traguardo anche per noi Quindi toccare quel mare, fare un bagno in mare è una cosa meravigliosa Poi i nostri ospiti stanno ore e ore in acqua e quindi si crea proprio una sorta di gruppo in acqua, una cosa bellissima anche quella Dove si parla, si chiacchiera, si fa di tutto in acqua, quindi la cosa bella è anche proprio quella Che meraviglia e così poi si sentono davvero parte della normalità di tutti Assolutamente, diventa un gruppo unito e coeso, ho visto delle bellissime immagini infatti di questi momenti E ci sono persone che hanno proprio la luce negli occhi, quello che dicevo che magari noi siamo abituati a fare il bagno al mare E noi diciamo ma sì mi butto in acqua, mi bagno un attimo, per noi è una cosa normale Pensate invece di che dono prezioso abbiamo noi, senza saperlo dovremmo godere davvero di ogni attimo E queste cose ci insegnano a farlo E' bello anche perché magari i ragazzi si trovano comunque con i loro coetani, ragazzini che hanno la loro età Magari che vivono a disabilità, è bello vedere proprio loro che accompagnano questa ragazzina E quindi anche questa condivisione è veramente meravigliosa Proprio ci fa un po' tutti ridimensionare secondo me, un po' ci fa capire che poi la vita ha diverse sfumature E questa è una sfumatura secondo me che un po' tutti stiamo riguardando E per me la cosa bella è questa E quindi ribadisco sì il bagno al mare è quello che noi facciamo ed è visibile Ma ci sono tante altre cose che non sono visibili sotto quei gazebi e ci sono E ribadisco sono quelle anche più importanti Che meraviglia, quindi pensate che belle emozioni che vivono questi ragazzi Che vengono a fare animazione, a fare volontariato E che poi si trovano in acqua con dei loro coetanei che non hanno la loro libertà E che comunque giocano e ridono insieme Bellissime esperienze, quindi vi invito davvero ad andare a cercare sui social l'associazione E magari provare quest'estate, dal 13 giugno sono qui aperti, montati A venire a respirare un po' quest'aria Magari vi appassionate, vi innamorate, come dico sempre E il prossimo anno poi dopo anche voi fate parte di quei volontari per vivere queste sensazioni Deborah grazie di tutto Grazie a voi, come sempre Ci vediamo al prossimo appuntamento Perché ancora dobbiamo chiacchierare con la nostra amica Deborah di insieme a te A presto